Nella nostra cultura il termine scienza è diventato sinonimo di scienza sperimentale, cioè di quella prassi conoscitiva fondata sull'uso sistematico della verifica e dell'esperimento, finalizzata ad applicazioni tecnico-pratiche, che sono caratterizzate dall'obiettività della ricerca, dalla riproducibilità degli esperimenti e dal carattere operativo, ad esempio, che ne so, trovare la cura per una malattia, tanto per fare un esempio che non ha assolutamente riferimenti a fatti realmente accaduti, e quindi non puramente, quindi non un ambito puramente speculativo, quindi che riguarda il pensiero. Infatti ricordiamo che, in senso lato, operativo significa che è relativo all'esecuzione o anche alla funzione di un fatto tecnico, mentre speculativo si riferisce all'atto dello speculare, cioè il ricercare e indagare in quanto attività teoretica. In senso più ampio e tradizionale, per scienza si intende invece un insieme di conoscenze che includono in sé stesse una garanzia della propria validità, più o meno assoluta. Per scienza si intendono quindi non solo le scienze sperimentali, ad esempio, che ne so, l'ingegneria o la ricerca medica, ma anche ogni disciplina organizzata e strutturata sistematicamente che riesce a dimostrare la propria efficacia e verità. Questa accezione di scienza, in senso lato, è stata da sempre rivendicata dalla filosofia che, dalle sue origini fino all'inizio dell'età moderna, si presenta come un sapere che comprende anche le discipline scientifiche in senso stretto e rivendica nei loro confronti un ruolo di superiorità. Con Galilei e Newton si apre quel dibattito metodologico che porterà alla nascita della scienza moderna sulla base dei grandi successi ottenuti dalla ricerca sperimentale e sulla base dei presupposti anti-metafisici della filosofia moderna e abbiamo accennato a queste questioni nell'episodio dedicato al problema metafisico. Galileo, ad esempio, mostra la corrispondenza fra fenomeni naturali e la loro espressione matematica, come in questa bellissima immagine che vedete in questa slide, mentre Newton, in particolare, sottolinea il carattere puramente descrittivo e non esplicativo della scienza, quindi la scienza che descrive ciò che avviene e non invece ne spiega le cause, le cause di ciò che avviene. Kant, poi, con la sua indagine mnoseologica, cioè che riguarda l'ambito della conoscenza, mostra che le leggi scientifiche non sono universali in sé, ma hanno un fondamento a partire dal soggetto che le conosce, è quello che lui chiama il fondamento trascendentale. Nel corso della sua storia la filosofia si è sempre interrogata sui problemi generali della ricerca scientifica, ma è solo dall'Ottocento, in parallelo con le profonde trasformazioni sperimentali e concettuali delle scienze fisiche e delle scienze logico-matematiche, che si è venuta costituendo una disciplina specialistica autonoma. Stiamo parlando della filosofia della scienza o epistemologia, che studia i fondamenti delle teorie scientifiche. Ricordiamo che epistemologia significa discorso sulla scienza, come traduzione letterale dal greco, appunto, episteme, scienza e logos. Quindi discorso, ecco, un'ambulanza in sottofondo a ricordarci il periodo in cui stiamo vivendo. Di solito l'attaggio, questa volta ho deciso di non tagliarla. L'oggetto dell'epistemologia è stato inteso storicamente in modi diversi. Ai tempi del Circolo di Vienna si tratta di un gruppo di filosofi che costituisce il nucleo originario del neopositivismo. Ecco, ai tempi del Circolo di Vienna, i primi studi di Paul Rudolf Carnap, che nasce nel 1891 e muore nel 1970, identificano l'epistemologia con la logica applicata, cioè con lo studio della sintassi logica delle teorie scientifiche, ossia dei rapporti formali tra gli enunciati scientifici. E, in particolare, Carnap prende in considerazione come scienza quella che prevalentemente prende in considerazione è la fisica. A partire dagli anni Sessanta, poi, il dibattito si è concentrato sulla semantica, cioè sul significato dei termini scientifici, mentre gli sviluppi più recenti si sono rivolti ai problemi della pragmatica, cioè dell'utilizzo di ciò che le diverse teorie sostengono, cioè lo studio di quello che poi viene fatto di queste teorie nella vita reale. La filosofia della scienza diventa una disciplina autonoma intorno al 1920-1930, soprattutto per opera dei già menzionati neopositivisti del Circolo di Vienna, ma anche del Circolo di Berlino, al fine di privilegiare appunto questo ambito di studi, cioè la filosofia della scienza, attribuendogli una funzione centrale nella battaglia contro la metafisica. Il primo grande dibattito della filosofia della scienza è quello sul cosiddetto processo di liberalizzazione dell'empirismo, che negli anni Trenta, con il già menzionato Carnap, e poi con Herbert Feigl e Ernest Nagel, segna il passaggio dalla fase del positivismo logico a quella dell'empirismo logico, e l'allargamento del criterio empirico di significanza a un criterio più generale di verificabilità empirica indiretta. Ecco, chiariamo alcuni termini, se no ci confondiamo. Cos'è l'empirismo? Allora, l'empirismo è l'atteggiamento generale del pensiero filosofico che pone nell'esperienza l'unica fonte valida di conoscenza. Quindi, negando che qualsiasi asserzione possa avere un valore assoluto, quindi asserzione significa qualsiasi considerazione, ecco, negando appunto l'assolutezza di qualsiasi asserzione, riconosce che ogni verità può e deve essere messa alla prova, controllata ed eventualmente modificata o addirittura abbandonata. Poi abbiamo parlato del criterio di significanza, ricordiamo che sempre nella filosofia della scienza, ovviamente, la significanza è la proprietà di una proposizione di essere dotata di un significato, cioè di essere significante. Il termine è usato soprattutto nell'ambito dell'empirismo logico come appunto criterio di, nella locuzione, scusate, di criterio di significanza empirica, che è inteso come criterio in base al quale una proposizione ha significato solo se sono indicate le procedure per verificarle, questo è molto importante e lo ripeto, quindi il criterio di significanza empirica è inteso come criterio in base al quale una proposizione ha significato solo se sono indicate le procedure per verificarla, appunto questa proposizione. In questo senso, quindi, le proposizioni metafisiche si distinguerebbero da quelle scientifiche perché prive di significato. Un indirizzo parzialmente diverso da quello logico empirista o verificazionista è invece il falsificazionismo di Karl Popper, quindi passiamo dal verificazionismo, quindi verifica al falsificazionismo, cioè la falsificazione. E la tesi centrale del falsificazionismo di Popper è che ogni teoria non può avere una convalida una volta per tutte, ma è sempre una ipotesi, tra virgolette, azzardata, il cui carattere scientifico è dato dal fatto di contenere un asserto base che possa essere smentito dall'osservatore, il cosiddetto falsificatore potenziale. Ecco, un semplicissimo esempio è quello di dire che la Terra ruota in orbita intorno al Sole. Ecco, questo è l'asserto base, il falsificatore potenziale. Quindi finora nessuno è riuscito a falsificare questo asserto. Però esiste questo falsificatore potenziale. Quindi un domani, anche se per migliaia di anni si è creduto che la Terra ruota intorno al Sole, ecco, se qualcuno riuscirà a falsificare questa tesi, allora la stessa tesi sarà appunto da ritenersi invalida. Gli studiosi fanno coincidere la svolta più importante nel campo della filosofia della scienza con la pubblicazione del saggio dal titolo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, pubblicato nel 1962, questo è un saggio di Thomas Kuhn, in cui, come aveva già fatto Galileo, Kuhn utilizza un linguaggio creativo che tratta della scienza in maniera qualitativa, attingendo dal vocabolario tipico di altri contesti. Nello stesso modo in cui il saggio è scritto, lo stesso saggio mostra anche che ogni rivoluzione scientifica è stata contraddistinta da un linguaggio completamente nuovo, non direttamente confrontabile con i precedenti. Quindi non cambiano soltanto le teorie, ma cambia anche completamente il linguaggio con cui appunto queste teorie vengono espresse. E questo porta a quello che Kuhn chiama il mutamento di paradigma, celeberrima locuzione che conosciamo, viene anche detta molto spesso in inglese, quindi un paradigm shift. Il post-empirismo quindi pone una radicale critica all'empirismo logico e a Popper, sostenendo che la filosofia della scienza non debba accertare la verità o la falsità delle teorie, in quanto nello sviluppo delle teorie stesse si ha una variazione di significato. In altre parole, due teorie diverse guardano mondi diversi. Queste sono parole, tra virgolette. Quindi due teorie diverse guardano mondi diversi. E poiché vi è incommensurabilità fra le teorie, non esistono criteri per scegliere razionalmente fra teorie concorrenti, quale teoria sia più valida dell'altra. Abbiamo parlato di incommensurabilità fra le teorie, ricordiamo che si dice incommensurabile di fatti o di grandezze che non ammettono una misura comune, tra cui perciò non è possibile stabilire un rapporto. I problemi più discursi dai filosofi della scienza ai giorni nostri sono sostanzialmente tre. I criteri di scientificità la scelta fra teorie scientifiche quindi come si fa ad effettuare una scelta fra diverse teorie scientifiche e infine la struttura della spiegazione scientifica cioè delle argomentazioni scientifiche. Il problema dei criteri di scientificità tre sono i criteri di demarcazione fra scienza e pseudoscienza sui quali esiste un certo consenso fra gli studiosi. Il primo è la consistenza interna di una teoria cioè l'assenza di contraddizioni. Il secondo è la testabilità di una teoria che dopo la critica di Popper al verificazionismo va intesa come l'esistenza per ogni teoria di asserti che siano suoi falsificatori potenziali. Ad esempio, se io dico che al centro della Terra c'è Paperopoli ecco, questa teoria finché non possiamo andare al centro della Terra non è testabile quindi qui non si tratta di conoscenza scientifica. Il terzo punto, sempre sul problema della scientificità su cui esiste un certo consenso è la fecondità di una teoria cioè la sua capacità di risolvere tutti o gran parte dei problemi risolti dalle teorie concorrenti. E questo era il problema dei criteri di scientificità. Adesso passiamo al problema della scelta fra teorie I criteri per scegliere la migliore fra due teorie diverse che rendono conto degli stessi fenomeni sono, secondo gli studiosi la compatibilità con altre teorie accettate la semplicità delle ipotesi e la qualità estetica cioè la coerenza, la simmetria e l'essenzialità della spiegazione. E questi erano i criteri con cui dobbiamo e possiamo scegliere fra teorie diverse. L'ultimo punto è il problema della struttura della spiegazione scientifica. La spiegazione scientifica sia per gli empiristi logici cioè i verificazionisti sia per Popper cioè il che era falsificazionista ecco, la spiegazione scientifica consiste nel ricondurre enunciati particolari quindi molto specifici che ne so, la terra è sferica la terra è piatta sotto enunciati generali in una catena deduttiva in cui l'enunciato di base è deducibile da una legge generale, universale. Quindi verificazionisti e falsificazionisti però si dividono hanno opinioni differenti sul procedimento per l'accettazione di questa che dovrebbe essere la regola generale. Con il post-empirismo questo modello della spiegazione della struttura della spiegazione scientifica viene però rifiutato. Paul Carl Feyerband propone ad esempio un olismo estremo nella concezione delle teorie secondo cui non vi è alcuna differenza fra enunciazione di fatti ed enunciazioni di credenze non verificabili. Lo ripetiamo, secondo Feyerband non vi è alcuna differenza fra enunciazione di fatti ed enunciazione di credenze non verificabili. e questo è il cosiddetto olismo estremo nella concezione delle teorie e infatti l'olismo è una concezione secondo cui i sistemi complessi hanno caratteristiche non riducibili alla somma dei loro elementi primari costitutivi. Un'altra studiosa scomparsa di recente nel 2016 Mary S. propone il modello della rete per cui non vi è differenza di status fra enunciati teorici ed enunciati osservativi. Infine citiamo Imre Lakatos che propone una distinzione fra un nocciolo metafisico di enunciati ma impariamo a usare anche la parola asserti che è un po' più precisa ecco una distinzione fra un nocciolo metafisico di asserti che non sono direttamente falsificabili e quella che lui chiama una fascia protettiva di asserti che se falsificati possono tranquillamente venire abbandonati. Bene questo è tutto su questo episodio dedicato alla filosofia della scienza molto attuale secondo me soprattutto in questo difficilissimo periodo con cui abbiamo a che fare con questo virus spero che lo abbiate trovato interessante vi ringrazio sinceramente per la visione ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti